Avrebbero rubato quattro pneumatici destinati agli autobus per il trasporto urbano. Con questa accusa, due dipendenti della società controllata AMA, azienda per la mobilità aquilana, sono stati arrestati lo scorso fine settimana dai carabinieri della stazione di Monte Reale. Il 52enne autista e il 53enne operaio sarebbero stati colti dalle forze dell'ordine in flagranza di reato, bloccati a bordo di un furgone e di un'autovettura, mentre si allontanavano dal deposito aziendale di Campodipile, da dove poco prima erano state sottratte le gomme. La perquisizione del furgone ha permesso di rinvenire l'area furtiva del valore di 1000 euro circa. Nei giorni scorsi il GIP del Tribunale dell'Aquila ha convalidato l'arresto, tuttavia i due, dopo l'udienza di convalida, sono tornati in libertà in attesa del processo. Grazie a tutti.